Regione, le azioni da porre in essere senza indugio nelle politiche di bilancio. Il documento di economia e finanza indica gli obiettivi per il prossimo triennio tra le priorità conti in sicurezza e messa a punto della macchina. Calabria nel tunnel del lungo inverno demografico. In sette anni la Regione ha perso oltre 42 mila residenti ed il trend prosegue meno 0,58% nei primi mesi dell'anno, meno nascite e più anziani. Per la docente di Sociologia dell'Unica, la Sabina Licursi, nessun destino è segnato. Medicina all'Università della Calabria, il no della politica catanzarese. In una nota congiunta il sindaco Nicola Fiorita e di tre principali candidati alla carica di primo cittadino nelle ultime elezioni comunali, Vandaferro, Valerio Donato ed Antonello Tallerico, esprimono la loro netta contrarietà ed invocano l'intervento del governatore Occhiuto. 600 mila euro per riqualificare il santuario. Presto operativo il progetto per riqualificare il santuario della Madonna della Grotta nella frazione Bombile di Ardore, crollato in parte nel 2004. Il sindaco Campisi al Corriere della Calabria stiamo lavorando per la progettazione da approvare entro un mese. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV. In apertura la politica, dopo l'ok in Consiglio regionale al bilancio di previsione 2023-2025, si aprono diverse sfide inderogabili per la Regione Calabria. Il documento di economia e finanza indica gli obiettivi per il prossimo triennio tra le priorità, conti in sicurezza e messa a punto della macchina. Improcrastinabili e necessarie sono diverse le azioni che la Regione Calabria è chiamata a mettere in campo nel 2023 e nei prossimi anni per mettere in sicurezza i conti e riordinare la propria macchina. Nei giorni scorsi in Consiglio regionale è arrivato l'ok al bilancio. Zavorrato da vecchie e nuove emergenze, ora per la Giunta si tratta di realizzare politiche incisive e scelte profonde, azioni da porre in essere senza indugio. La prima azione necessaria è la tutela e il recupero dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Fondamentale inoltre sarà la progressiva riduzione del contenzioso e dei pignoramenti, così come imprescindibile per la Giunta è la riduzione del deficit in sanità. Richiesta poi anche la riduzione delle spese negli enti subregionali e ancora, si legge nel documento di Economia e Finanza, per il futuro sono urgenti l'aumento delle entrate e il recupero dell'evasione fiscale e la salvaguardia della disponibilità di cassa. Altrettanto fondamentale sarà sicuramente accelerare il pagamento delle fatture commerciali e intervenire sull'apparato amministrativo regionale. In sette anni la Calabria ha perso oltre 42 mila residenti ed il trend prosegue con meno 0,58% nei primi nove mesi della 2022. Sempre meno nascite e più anziani per un tunnel demografico che riguarda tutto il paese, ma preoccupa soprattutto al sud. Un declino continuo ed inarrestabile, un'emorragia che coinvolge il paese intero ma che risulta ancora più marcata nelle aree periferiche dell'Italia e del mezzogiorno in particolare. Quello che si sta sempre più rivelando il lungo inverno sta producendo veri e propri sconvolgimenti nel tessuto socio-economico dei territori, con una popolazione sempre più ridotta al lumicino che fa i conti con l'invecchiamento e il crollo della natalità. Nell'ultima rilevazione dell'Istat emerge infatti un nuovo record negativo per nascite in Italia, circa 4.500 in meno in un anno. E dal 2008 i numeri del fenomeno sono impietosi, 176.410 nascite in meno, con un meno 30,6%. Quadro che non risparmia il sud e neanche la Calabria. In sette anni la regione ha perso oltre 42.000 residenti e il trend prosegue con un meno 0,58% nei primi nove mesi dell'anno. La fotografia che ci restituisce l'Istat è quella di un paese in declino demografico, la cui popolazione diventa sempre più anziana. Il dato regionale conferma quello che da tempo viene definito inverno demografico. Accanto agli indicatori sull'invecchiamento della popolazione, vanno considerati anche quelli relativi al degiovanimento, ossia alla riduzione nel tempo delle classi di età 0,14 e 15-24 anni, una tendenza che è ancora più marcata nelle aree interne della nostra regione. Seppure alcuni territori oggi presentino un marcato spopolamento, è bene sottolineare che anche le dinamiche demografiche negative possono essere affrontate, ridotte o superate. Servono per questo politiche redistributive e coraggiose e di lunga durata, che siano in grado di rendere abitabili quei territori che oggi lo sono poco o non lo sono per niente e quindi che siano in grado di potenziare le opportunità di vivere una vita degna, piena, per giovani e famiglie che sono già residenti in quei territori o che vorranno andare ad abitarli. Impazzano le polemiche dopo l'attivazione del corso di laurea in medicina presso l'Università della Calabria. La politica catanzarese si schiera contro la decisione ed invoca l'intervento della governatore Roberto Chiudo. La notizia dell'attivazione del nuovo corso di laurea in medicina, chirurgia e infermieristica all'Università della Calabria divide l'opinione del mondo accademico e politico. In una nota congiunta il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e i tre principali candidati alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali, Vandaferro, Valerio Donato e Antonello Tallerico, esprimono la loro netta contrarietà all'istituzione di una nuova facoltà di medicina in Calabria che risulterebbe, dicono, un'inutile duplicazione di quella esistente all'Università Magna Grecia. La decisione adottata dal Comitato regionale di coordinamento delle università calabresi viola apertamente la logica di sistema e di non concorrenzialità tra gli Atenei, si legge ancora nella nota, e risulta palesemente in contrasto con le politiche di sostenibilità dei nuovi percorsi accademici. La sola motivazione dell'esigenza di allargare la platea degli studenti in medicina in una regione che ha bisogno di medici risulta pretestuosa secondo sindaco e candidati, poiché sarebbe bastato un reale investimento sulla facoltà di medicina già presente all'Università Magna Grecia. La proposta della politica catanzarese è quella di investire sull'unica e titolata facoltà esistente in Calabria con un ampliamento del numero chiuso e con il potenziamento del Policlinico Mater Domini e dell'azienda Dulbecco. Oppure, dicono, non si ritengano più dei tabù le possibili duplicazioni di facoltà identitarie dell'Unical come ingegneria e lettere. Infine, un invito al presidente Occhiuto si confida sull'opera di mediazione che potrà svolgere il governatore in virtù del suo ruolo istituzionale super partes e rappresentativo di tutti i territori calabresi. È stata una vigilia di Natale durissima per la rete sanitaria d'emergenza urgenza a Cosenza. Il motivo? Giovani adolescenti trascinati dal lavoraggine dell'abuso degli alcolici. Una ventina di giovani trattati sul posto oltre ad alcuni ricoveri alla pronto soccorso. Segno però di una deriva che è sempre più allarmante. Una lunga maratona senza rispettare alcuna regola se non quella di mettere a durissima prova la propria resistenza ma soprattutto le proprie condizioni di salute. Una triste abitudine che si ripete ogni anno. Il copione è sempre lo stesso, bere alcol senza sosta dallo sballo allo sfinimento fino troppo spesso alla necessità di ricevere cure mediche. Dalla moda che corre su web e attraverso i social fino al bisogno di evadere da una realtà che probabilmente non corrisponde alle aspettative dei ragazzi. I segni più tangibili di questa drammatica abitudine sono stati riscontrati a Cosenza, segnata da una vigilia di Natale particolarmente e turbolenta e soprattutto molto impegnative che ha messo a dura prova la capacità di risposta della rete sanitaria d'emergenza urgenza con 118 e pronto soccorso già in affanno come ai tempi del Covid. Per l'intera giornata sono state due le ambulanze sistemate tra via Arabia e piazza Cappello per fornire assistenza costante ai ragazzini più provati dall'abuso di drink e superalcolici. I numeri sono lo specchio di un disagio sociale sempre più allarmante. In tutto sono stati una ventina i giovani trattati sul posto dai sanitari dall'alba al tramonto. Un'altra dozzina invece è finita in ospedale con una tredicenne che si è presentata al pronto soccorso con i segni del cometilico. L'approccio dei sanitari è stato fondamentale ma è necessario lavorare alla radice di un problema che è ormai sociale ed endemico. Una grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10.30 sulla strada statale 106 nel comune di Ardore nel Regino. Un'auto ed un camion si sono scontrati per cause in corso d'accertamento. Il conducente dell'auto, un Opel Corsa, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo è stato trasportato in ospedale nell'isoccorso. Il tratto di strada è rimasto parzialmente bloccato. Secondo quanto si apprende l'uomo alla guida, un anziano potrebbe essere stato colto da un ammalore alla guida. Crescono nel 2022 gli episodi di minacce nei confronti di giornalisti in calo, però le denunce alle autorità. La Calabria è tra le regioni più colpite. Sono 84 gli episodi intimidatori commessi in Italia nei primi nove mesi del 2022 nei confronti di giornalisti rispetto ai 162 registrati lo scorso anno, con una flessione che ha raggiunto il 48%. A rendere pubblici i dati, un report del centro di coordinamento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti del Ministero degli Interni. Dai dati del Ministero emerge che per l'88% dei casi le vittime sono 74 professionisti dell'informazione, tra i quali 21 donne e 53 uomini. Il 19% delle segnalazioni totali è relativo ad episodi intimidatori perpetrati nei confronti di sedi giornalistiche o di truppe non meglio specificate. Le regioni più colpite sono Lazio, Lombardia, Campania, Calabria e Toscana, con 57 episodi complessivi, pari al 68% del totale. I dati di ossigeno per l'informazione, l'osservatorio non governativo sui giornalisti minacciati e le notizie oscurate con la violenza fanno riferimento a tipologie di intimidazioni e minacce più ampie rispetto a quelle prese in considerazione dal Viminale. Comprendono infatti anche le querele e le cause per diffamazione promosse in modo temerario e strumentale e le violazioni del diritto di informazione codificato all'articolo 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Questi dati indicano un andamento diverso nei primi nove mesi del 2022. Sono stati rilevati infatti da ossigeno 173 episodi di intimidazioni e minacce nei confronti di 564 operatori dei media, di cui il 29% è costituito da donne. Piccoli comuni e PNRR. Tante sono le amministrazioni di piccoli centri calabresi che puntano a recepire ed investire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A Dipignano, centro del Cosentino, sorgerà un asilo green, come ci conferma il sindaco Gaetano Sorcale. La realizzazione delle opere che abbiamo messo in cantiere con il TNRR, ovvero la realizzazione di un asilo, nella versione di Laurignano, un asilo costruito totalmente autosufficiente, quindi con le più moderne tecniche cosiddette green ecologiche. Un discorso di intervento soprattutto a livello sulla rete idrica, in quanto abbiamo internalizzato il servizio della gestione idrica dopo 20 anni, quindi adesso procederemo a mettere mano a queste reti idriche obsolete e quindi con degli interventi finanziati sempre atti dal PNRR. Abbiamo previsto anche il completamento di due edifici scolastici, scuola elementare e scuola primaria sul Laurignano, lì strutturati e adeguati chimicamente, quindi diciamo questi sono soprattutto gli interventi dal punto di vista progettuale, urbanistico del territorio. Una tragedia sfiorata nel 2004 quando si staccò una parte della parete in tufo della montagna che inondò di macerie la grotta, fortunatamente senza vittime. È quanto accaduto al Santuario della Madonna della Grotta nella frazione Bombile di Ardore. Ora, dopo tanti anni, il progetto da 600 mila euro potrebbe diventare realtà. Ne ha parlato al Corriere della Calabria il Sindaco Campisi. Un santuario cattolico mariano scavato nel tufo e risalente al XV secolo incastonato in una impervia parete rosciosa e raggiungibile solo attraverso una scalinata alta 28 metri scavata nella pietra. Migliaia i fedeli che da tutta la Calabria arrivavano a maggio nella frazione Bombile di Ardore e che percorrevano anche in ginocchio i 141 gradini che portavano al Santuario della Madonna della Grotta. Almeno fino al 28 maggio 2004, quando si stacca parte della parete in tufo della montagna e che inonderà di macerie la grotta, per fortuna senza vittime. Il crollo da uno studio fatto dei geologi del tempo che si sono interessati del lavoro è stato causato da eventi naturali perché essendo una roccia sabbiosa negli anni le infiltrazioni dell'acqua l'hanno portata a questo scivolamento perché in realtà c'è stato uno scivolamento della montagna e si è portata via il santuario. Nell'aprile 2007 si riuscirà a recuperare la statua della Madonna che è ora costruita nella chiesa dello Spirito Santo, mentre il comune ha ottenuto un finanziamento di 600 mila euro per un progetto di recupero di una parte dell'area. La situazione è questa, noi abbiamo avuto un finanziamento da parte della regione Calabria di 600 mila euro. Abbiamo affidato la progettazione all'ingegnere Ovidi Italiano e al geologo Ursino che stanno lavorando per preparare la progettazione di questo intervento che da qua a breve, penso nel giro di un mese dovremmo approvare la progettazione. Il nostro intendimento in questa fase con questi 600 mila euro è quello di mettere in sicurezza la parte che è rimasta tra il santuario e le scale e sotto le scale, in modo da poter rendere accessibili le scale e arrivare in fondo e recuperare quello che è rimasto adesso del piazzale. Recuperare il piazzale perché poi pensiamo con un nuovo finanziamento con un presto alla Cassa dei Posti e Presti di realizzare un grande piazzale, un altare e posizionare una statua della Madonna per renderla accessibile almeno nelle giornate della festa, 1, 2, 3 maggio. Rimaniamo nel Regino, ci spostiamo però a Locri per il tradizionale cimento invernale che si rinnova ogni anno il 26 dicembre. Cos'è il cimento? Il cimento è semplicemente un tuffo in acqua, un tuffo salutare perché permette un innalzamento vorticoso del cortisolo naturale che produce un senso di assoluto benessere nel corpo, è un rituale di coraggio, un veramente porre il cuore oltre l'ostacolo, una volontà di voler fare qualcosa di originale, soprattutto costruire qualcosa di goliardico ma insieme, benefico e simpatico. Ogni anno ormai il 26, questo giorno di Santo Stefano, diventa il momento per noi per poter rinnovare questa tradizione e le persone rispondono E quindi lo sport, la regina batte a domicilio Lascoli e si conferma al secondo posto a conclusione della girone d'andata in Serie B. Si chiude invece con una sconfitta per 2-0 in casa del Cagliari che vale l'ultimo posto in classifica la prima parte della stagione per il Cosenza. I Lupi chiudono il 2022 come peggio non avrebbero potuto e per il tecnico Viali si tratta di una questione di mentalità. Sentiamo. Abbiamo sofferto molto i primi 20 minuti, sono partiti molto forte, poi per il resto ce la siamo giocata alla pari, abbiamo avuto occasioni noi e occasioni loro. Forse nel momento che avevamo la partita in mano nella ripresa hanno fatto gol su quel piazzato che ha rotto un pochino gli equilibri. Ci accompagna un pochino questa situazione di essere poco determinati negli ultimi 20 metri, creiamo tanto ma non riusciamo a sbloccare le partite, questo sicuramente non aiuta per il risultato. Chiaro che la classifica è la cosa che dà più noia, dà più fastidio, vuol dire che sicuramente dovremmo continuare a migliorare. Credo che sia un fatto di mentalità. Abbiamo una proporzione, ma non solo oggi, nelle ultime 3-4 gare soprattutto, una statistica fra occasioni create, gol fatti, occasioni concesse, gol subiti che pende dalla parte negativa per noi, assolutamente quella è una questione di mentalità. Ci fermiamo qui per il momento, grazie come sempre per essere stati con noi e buon proseguimento sull'altro Corriere TV. Corriere TV. Grazie.